Si cerca ancora un muovente per la sparatoria di Ardea in Lazio in cui ieri un 34enne ha ucciso due bambini di 5 e 10 anni e un pensionato di 74 e non si fermano le polemiche sull'accesso alla pistola che apparteneva al padre guardia giurata morto un anno fa con cui l'assassino aveva già minacciato i vicini per futili motivi. E secondo le prime ricostruzioni proprio 5 minuti prima della tragedia una pattuglia dei carabinieri era andata a controllare il padre dei due bambini che si trova agli arresti domiciliari come spiegato dall'avvocato Diamante Ceci, illegale dei genitori dei piccoli Davide e Daniela appena sentiti gli spari proprio il padre ha allertato la pattuglia che è tornata immediatamente nella zona.